Ciao, amici! Che bello che siete qui! Mettiamoli in ordine! Benvenuti nel campo delle stelle cadenti! Stelle cadenti? Non vedo nessuna stella! Queste stelle cadenti! Sì! Stanno abbandonando la costellazione e il maestro delle stelle ha bisogno di voi per farle ritornare! Se le stelle che cadono veloci riuscirete a catturare, il maestro delle stelle vi lascerà passare! Mi si è allungato il collo! Sembro una giraffa! Sono bellissime! Ma come faremo a trovare la nostra porta? È così buio! Ma come faremo a trovare la nostra porta? È così buio! Sono la mappa! Sono la mappa! Sono la mappa! Ma sei!